Ci sarà il Sannio a tifare per Paolo Scandale, cantante beneventano, finalista al premio Mia Martini che si terrà dal 6 luglio e oltre a tifare il Sannio potrà, anzi dovrà votare per Paolo quando si esibirà in Calabria. Il traguardo è il premio Mia Martini, ho raggiunto la finale, ovvero la fase radiofonica che consiste di fare un inedito che poi andrà sul sito streaming di Radio Medua e da là si potrà votare. Poi si sceglierà gli ultimi 15 che andranno in finalistima e da là poi il vincitore del premio Mia Martini, del premio della giuria, del premio Mia Orcanzone, vari premi che poi portano al grande premio Mia Martini. Tu ti occupi di musica da un bel po', come hai iniziato qui a Benevento? A Benevento mi sono trovato in un'accademia di Santa Sofia, ho iniziato a fare corsi di canto e corsi di formazione musicale appunto con il professor Raucone e da là è nata l'idea di mandarmi a questo premio Mia Martini. Non ti chiediamo ovviamente essendo un inedito cosa canterai ma ti chiediamo più o meno di che genere di musica ti occupi, cosa ti piace cantare? A me piace cantare da Ray Charles al Frank Sinatra, da Nat King Cole a Dean Martin, tutta la roba jazz e poi blues ovviamente. Sì un po' di rock pure come vedete i muse, li adoro. Cioè la mia stile musicale è molto vario perché posso pure iniziare ad ascoltarmi tipo Ennio Morricone che mi ispira tanto, Hans Zimmer pure, musica del cinema. Posso passare dal cinema al rock progressive, rock alternative oppure alla musica del mondo. A me il mio animo, la musica dipende dello stato d'animo che ho. E ci auguriamo che possiamo portare fortuna a Paolo e vederlo trionfare e magari una rock star che nasce dal sannio. A me il mio animo, la musica dipende dello stato d'animo che ho.